notizie dall'ucraina il podcast di adn kronos dedicato al conflitto bentornati da carlo intini la presenza dei droni è centrale nel conflitto in ucraina velivoli kamikaze senza pilota o utilizzati come ricognitori per sondare la presenza del nemico sul terreno i droni grazie ai loro bassi costi sono protagonisti della guerra una presenza costante sui cieli ucraini come confermato dal capo della direzione principale per la guerra elettronica e la sicurezza informatica di chieva ivan pavlenko se prendiamo il territorio da zaporizia liman in alcune aree della linea del fronte possiamo registrare fino a 250 300 droni in volo contemporaneamente si tratta di apparecchi senza pilota di diversi tipi lanciati da noi e dai russi rispetto a inizio conflitto entrambi gli eserciti hanno fatto dei droni un'arma centrale migliorata la tecnologia in termini di velocità autonomia di volo capacità di carico utile per ovviare all'inferiorità rispetto all'aeronautica russa e alla minor potenza di fuoco della sua artiglieria chiev ha spinto molto per la produzione di droni aiutando le aziende private a formare 10.000 operatori di droni l'anno non è un caso che il produttore di aerei cargo ucraino antonov avrebbe deciso di allargare la propria attività nel settore dei droni e arriva dal donesca la notizia che chiev ha colpito con successo una base russa di droni zala lancet dopo l'uso massiccio di droni shahed di fabbricazione iraniana anche mosca si è dotata di una flotta di droni prodotti in proprio introducendo sul campo nuove armi elettroniche di disturbo a fare il punto sull'uso di droni nel conflitto il ministro per la trasformazione digitale ucraino mikhailo fedorov l'ucraina stima che la russia stia distruggendo circa mille droni ucraini al mese ecco perché dobbiamo trovare nuovi modi per aumentare la produzione di veicoli aerei senza equipaggio in quella che è rapidamente diventata la più grande guerra di droni della storia ma a volare non sono solo i droni il governo svedese sta valutando di inviare i propri caccia griffen all'ucraina che spera di riceverne poco meno di una ventina il governo polacco deciderà unilateralmente il blocco del grano ucraino a partire dal 15 settembre se la commissione europea non estenderà il divieto di importazione di grano mais colza e girasole dall'ucraina a cinque paesi dell'ue polonia slovacchia ungheria romania e bulgaria ad annunciarlo il premier polacco matteo smoraviecki e per ora è tutto notizie dell'ucraina è un podcast originale adn kronos se questo podcast è di tuo gradimento seguici anche dalla tua app podcast preferita youtube spotify google podcast apple podcast e spreaker iscriviti al canale o abilita la funzione segui per trovarci più rapidamente e la funzione notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi e se hai un momento lascia una recensione aiuterà gli altri a trovarci più facilmente altre notizie ultime ore